Nella piazza che oggi porta il suo nome viveva un tempo la famiglia Galimberti. Abitava nella casa centrale, proprio di fronte al tribunale. Ecco Popat Ancredi, giornalista, avvocato e ministro del re. Mamma Alice, insegnante, studiosa e poetessa. E i fratellini, Duccio e Carletto, sempre vestiti da garibaldini e birchini come tutti i bambini. Duccio, dove sei? Cucù, sono qui, anzi qua. Ora ti prendo! Dov'è il cerchio? Ehi, passa la palla! Eccola! Oh no! Mamma Alice questa volta si arrabbia. Ma poi trova per i suoi bambini un gioco perfetto. Un baroccino inglese a due posti. Si parte! Aspettate! Dove andate? Anch'io voglio salire! Ehi, Duccio, aspettami! Arrivederci! Carletto, non andare via senza di me! Ah辦法! Ahaha! Ch—— Ch—— Ch- Ch- Chă- Ch- 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 Grazie a tutti.